Si chiama Modelli numerici per lo studio della qualità dell'aria e sistema informativo territoriale delle matrici ambientali della zona industriale di Bellocchi di Fano, il progetto che il Comune ha intrapreso con la partecipazione dell'Università di Urbino Carlo Bo. Gli obiettivi del progetto sono stati la raccolta, rilettura e elaborazione dei dati sulle tre componenti ambientali, aria, acqua e suolo della zona industriale di Bellocchi di Fano, stima della qualità dell'aria mediante l'impegno di modelli numerici e infine realizzazione di carte tematiche in ambiente. Il progetto finanziato interamente dal Comune con un costo di 73 mila euro si è concluso a luglio di quest'anno. I risultati definiscono una situazione articolata e non uniforme della zona industriale che risulta nel complesso non compromessa sotto il profilo ambientale nonostante la presenza di alcuni elementi di criticità, in particolare la matrice dell'aria e le polveri sottili. In sintesi, lo studio osserva che la matrice dell'aria della centralina di Bellocchi, posizionata in via Filippini, risulta avere una concentrazione superiore di polveri sottili rispetto alla centralina di via Montegrappa di Fano. Prendendo in esame il periodo giugno-agosto, sono stati riscontrati in via Filippini circa 80 superamenti del limite giornaliero di 50 microgrammi contro i 34 superamenti di via Montegrappa, constatando che la stazione di Bellocchi registra in media il 30% più elevato rispetto a via Montegrappa. Dal quadro di inquinamento riscontrato, i tecnici hanno realizzato un inventario delle emissioni suddivise in bicolari attraverso il traffico e industriali attraverso invece la consultazione dei titoli autorizzativi delle imprese operanti nell'area industriale. L'ipotesi che appare più realistica è che in prossimità dell'attuale centralina di monitoraggio dell'area industriale ci sono una o più fonti emissive non note al rilascio delle autorizzazioni delle emissioni. Pertanto gli enti addetti si fanno carico di investigare la natura e la reale potenza emissiva delle fonti di inquinamento sconosciute che verrà eseguita circa metà settembre. Per quanto riguarda gli altri inquinanti di cui si dispone la rilevazione non si evidenziano criticità. Per quanto riguarda la matrice, suolo ed acqua evidenziano criticità elevate concentrazioni di nitrati nelle acque di Chiaruccia, Papiria e Bellocchi Nuovo, concentrazioni di metalli nelle acque dei pozzi di Chiaruccia, Piccola, Industria e Bellocchi, elevata presenza di solventi utilizzati per i lavaggi a secco nelle acque di Chiaruccia, Papiria 2 e Bellocchi Nuovo. I campioni di suolo non evidenziano particolari criticità.